Zip News Zip News.it Le notizie nel modo più veloce Zip News Un saluto dalla redazione sportiva in studio Mariangela Salvalaggio tutto pronto per la ripresa del campionato il primo club a scendere in campo sarà il Torino nell'anticipo di sabato a Napoli gara naturalmente insidiosa con Juric che potrebbe trovarsi a corto di alternative soprattutto in attacco anche se il guaio muscolare di Pellegri è meno grave del previsto non è comunque certo che l'attaccante possa essere in campo al Maradona il tecnico Granata potrebbe però recuperare Milankuc e Ricci anche se difficilmente verranno schierati dal primo minuto in casa Juve tornerà pienamente disponibile Szczesny il cui apporto è stato decisivo per evitare alla sua Polonia la retrocessione nella Serie B di Nation League Allegri ne recupera 7 oltre al portiere rientreranno anche Aleksandro, Rabiot, Locatelli, Miretti, Quadrado e Milic nel posticipo di domenica sera con il Bologna inizia per i bianconeri un ciclo di gare decisive che condurrà al giro di boa della stagione fissato con la sosta del Mondiale sarà quello il momento della verità anche per la panchina di Massimiliano Allegri una Juve fuori dalla Champions e attardata nella corsa a Scudetto potrebbe indurre la società a dare corpo a riflessioni che per ora restano nel chiuso delle stanze nella continassa voltiamo pagina Pinerolo rischia di perdere il suo gioco simbolo il caro energia chiude anche il curling bollette energetiche troppo care per fare il ghiaccio una delle attività più energivore era l'ultima notizia in regia Rosario Perez Zip News Zip News.it le notizie nel modo più veloce Zip News